Musica Traffico di migliaia di cani, operazione nazionale che ha interessato anche Napoli, 7 misure cautelari eseguite dalla polizia di frontiera. Scoperto a scaricare dalla propria auto rifiuti, 32enne pregiudicato di Teleseterme, denunciato. Nella sua auto, droghe e coltelli, era diretto a Frasso, arrestato in flagranza, pusher napoletano. A Benevento arriva il kit di addestramento per i neogenitori, oggi la presentazione presso l'azienda ospedaliera Sampio. Pronti al derby sarà un incontro molto fisico, il tecnico del Benevento in conferenza stampa a parla della gara contro la Salernitana che sarà ospitata alla Reghi. Nuova edizione del Medianews ben ritrovati, l'abbiamo appena sentito, importavano illegalmente dalla Slovacchia cuccioli di cani di piccola taglia, venduti con documenti falsi, senza vaccinazioni e con malattie che dopo pochi giorni dall'acquisto ne causavano la morte. Un traffico illegale scoperto e smantellato dalla polizia di frontiera di Rimini che ha coinvolto anche la città di Napoli. Sentiamo. Un'operazione che ha interessato il territorio nazionale, la Repubblica Slovacca e come da disposizioni della Procura della Repubblica di Rimini è stata eseguita da circa 50 agenti con il coordinamento della squadra mobile emiliana in collaborazione col servizio di cooperazione internazionale di polizia, sirene di due team, delle unità ricerche attive latitanti e delle squadre mobili di Milano, Alessandria, Bergamo, Savona, Napoli, coadiuvata dalle guardie ecozoofile di fare ambiente. Smantellata e localizzata un'organizzazione criminale dedita al traffico illegale di animali, alla truffa, alla falsificazione di documenti relativi alle vaccinazioni e al maltrattamento di animali. L'organizzazione è stato spiegato in una conferenza stampa, aveva come paese di riferimento la Slovacchia dove sono stati individuati i tre soggetti ritenuti vertici del sodalizio e da dove provengono gli animali oggetto del traffico. C'è un giro di danaro notevolissimo, solamente per quella che è stata la nostra attività abbiamo potuto accertare il traffico di centinaia e centinaia di cuccioli di cani di pregio, barboncinitoi, bulldog francesi che nel mercato lecito e ordinario hanno un valore molto elevato, vanno dai 1.400 anche oltre 2.000 euro. Dal contesto investigativo è peraltro emesso un traffico di migliaia di cani che ha fruttato al sodalizio guadagni per oltre un milione di euro. Una pistola e 30 cartucce nascoste dietro una intercapedine ricavata in un muro esterno di un opificio e quanto hanno scoperto l'attore annunziata i finanzieri del nucleo mobile della locale compagnia sulla base di precedenti risultanze info-investigative, gli uomini della guardia di finanza si sono recati presso il laboratorio dove abilmente erano occultati ed hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta calibro 9x21, 30 cartucce, un caricatore ed un bilancino di precisione tutti avvolti in appositi involucri di cellofan. Sgominata una banda che rubava auto, la refurtiva è stata ritrovata anche in Spagna. L'indagine dei carabinieri nel napoletano 13, le misure cautelari, sentiamo. Rubavano auto chiedendo poi riscatto ed alcune vetture finivano anche all'estero. L'indagine ha coinvolto perfino la guardia civile in Spagna. Oggi la conclusione dell'inchiesta da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno dato esecuzione ad una ordinanza del GIP di Napoli che ha disposto misure cautelari a carico di 13 italiani e un albanese già noti alle forze dell'ordine. Per loro l'accusa a vario titolo è di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati. In Spagna la guardia civile ha ritrovato una Range Rover rubata dal gruppo e poi trovata con telaio punzonato e documenti contraffatti. Nel porto c'erano invece due autoarticolati con targhe contraffatte che stavano per essere imbarcati su una nave diretta all'estero. In provincia di Caserta invece una BMW con telaio punzonato. In strada, in diverse zone, altre 24 auto. Per l'accusa gli indagati rubavano di notte veicoli di diverse tipologie per poi prevalentemente immetterli in circuiti di ricettazione e riciclaggio. Una minorenne nigeriana era stata ridotta in schiavitù e costretta a prostituirsi sulle strade del casertano da due connazionali immigrati. La giovane donna, secondo quanto emerso dalle indagini della sua ramobile di Caserta che ha arrestato due persone, era stata sottoposta prima di partire per l'Italia a riti voodoo. La coppia è stata arrestata. Oltre 160 testi universitari interamente fotocopiati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza Santa Maria Capovetere in una libreria nei pressi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luigi Van Vitelli. Il titolare è stato denunciato per violazioni alla normativa in materia di diritti d'autore e a provocare l'intervento dei finanziari della Compagnia di Capo è stato l'andirivieni di studenti nella libreria. Scoperta a Telese Terme dalla polizia un'area con rifiuti non autorizzati denunciato un pregiudicato intento a scaricare dall'auto il materiale. Sentiamo. Stava scaricando alcuni rifiuti dalla sua auto indisturbato. Se la polizia non fosse intervenuta, quegli scarti avrebbero aumentato il cumulo già esistente in un fondo retrostante alla piazzetta Santo Stefano a Telese Terme. Un luogo diventato un vero e proprio punto di raccolta di rifiuti pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni. È stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Capologo Sennita, il 32enne pregiudicato della città termale per la violazione del testo unico ambientale. I agenti del commissariato di pubblica sicurezza, coordinati dal dirigente Flavio Tranquillo, hanno scoperto il già noto alle forze dell'ordine mentre era intento a sversare abusivamente rifiuti in un centro di raccolta dove veniva condotta un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti con l'obiettivo di recuperare del materiale metallico, ferro, alluminio, rame e acciaio, per poi rivenderlo e trarne profitto. Il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto anche rifiuti altamente inquinanti per complessivi quattro quintali, tra materiale ferroso, alluminio, appartenenti a pezzi arrugginiti di parti metalliche, di veicoli insieme a carcasse di computer non più utilizzabili e resti di personal computer con relative componenti elettroniche. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. A carico dell'uomo sono stati levati verbali e prescrizioni per il ripristino dello Stato dei luoghi mediante bonifica del sito con imprese autorizzate. Era diretto a Frasso Telesino con droga e coltelli, sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri che lo hanno dichiarato in arresto. Puscher in trasferta, appizzicato dai militari delle stazioni di Solopaca e Frasso Telesino, l'uomo a 55 anni napoletano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, agli ordini del capitano della compagnia di Cerreto Sannita, Francesco Ciccaroni, e coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Alessandro Puel, che ha disposto a ordinare i controlli del territorio, hanno intercettato e controllato il partenopeo, a bordo di un'autovettura diretta nel centro di Frasso. Insospettiti dall'atteggiamento della 55enne, i carabinieri hanno sottoposto ad un controllo più accurato sia l'uomo che l'auto, all'interno della quale, ben occultati, sono stati rinvenuti due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 200 grammi e due coltelli a serramanico utilizzati per il taglio. Al termine degli accertamenti è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Benevento. La sostanza stupefacente, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 4.000 euro, insieme ai coltelli e all'autovettura, è stata sottoposta a sequestro. Uno Stato che lotta contro la criminalità organizzata fa in modo che ogni nuova misura varata non finisca in mani sbagliate. Ne è convinta Laura Castelli, sottosegretario all'Economia, che rinvia al mittente le critiche sul reddito di cittadinanza avanzate, tra gli altri dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha chiesto attenzione sulla possibilità che il reddito di cittadinanza venga erogato anche a Camorristi. Castelli, intervenendo a Napoli a margine di un convegno su fisco e manovra, spegne le polemiche sui cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Sentiamola. Uno Stato che lotta contro la criminalità organizzata fa in modo che ogni nuova misura varata non finisca nelle mani sbagliate. Non credo che ci sia nessun motivo per dire che una misura importante come il reddito di cittadinanza che dà dignità a 5 milioni di persone abbia motivi, tipo quelli che sento dire spesso da politici invidiosi di non aver pensato di realizzare misure come queste. La manovra si fa una volta all'anno, come previsto. Abbiamo fatto una manovra che ovviamente avrà gli effetti mese dopo mese. È stata varata a fine anno, per cui vi chiederei di aspettare con noi, di vedere l'effetto, mentre noi lavoriamo, di questa manovra. Amiamo le sfide difficili e sono convinto che riusciremo a dare il nostro contributo. Lo ha detto Virgilio Pomponi, comandante regionale della Guardia di Finanza della Campania, rispondendo ai giornalisti, sempre a margine del convegno sulle novità fiscali del 2019 a Napoli. Ha risposto così. Sentiamolo. Diciamo che comunque fa parte di quello che è la nostra missione istituzionale, andare a controllare chi presenta delle dichiarazioni che non sono rispondenti al vero e quindi non hanno rispondenza con quella che è la reale posizione dei soggetti. Il rito di cittadinanza si inserisce in questo contesto. Sicuramente saremmo impegnati anche noi. Attendiamo poi che il nostro comando generale definisca quelle che possono essere le modalità pratiche dello svolgimento dei controlli, ma anche lì la nostra parte la faremo. Noi siamo abituati a queste cose. Noi amiamo le sfide difficili, quindi sono convinto che riusciremo a dare il nostro contributo. Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha incontrato presso il municipio di San Marco dei Cavoti i sindaci e il presidente della comunità del compressorio montano del Forture per un esame della situazione in cui versano le strade provinciali che attraversano l'area del nord-est campano. Il presidente, dopo aver ascoltato i rappresentanti del territorio, ha illustrato gli interventi predisposti dal settore tecnico della provincia che sono tutti in fase di realizzazione, con l'eccezione di qualche approfondimento previsto e sancito dalle norme di legge circa la congruità dell'offerta vincitrice di apposita gara d'appalto. Il presidente Di Maria ha anche affermato che occorre procedere con i lavori appaltati non appena le condizioni meteo miglioreranno. Di Maria ha anche sottolineato il lavoro realizzato sotto le piogge insistenti e prolungate. Seguiranno incontri sul territorio. A Benevento arriva il kit di addestramento per neogenitori. Oggi la presentazione presso l'azienda ospedaliera San Pio. Vediamo. Bootcamp è una sorta di scatola degli attrezzi, grazie alla quale la regione Campania vuole essere vicina alle mamme e ai papà, con bambini e bambine, dentro e fuori la pancia. Consigli e suggerimenti utili per neogenitori, così da renderli sempre più consapevoli del loro ruolo, per la salute dei figli e per la promozione del loro benessere. La regione Campania è una delle più giovani, per fortuna. Il numero dei parti è sicuramente elevato. Abbiamo il problema, invece, che abbiamo già affrontato anche col Presidente, del numero elevato dei parti cesari. E quindi anche in questo documento, in questa guida, il lavoro che sta facendo la Giunta è di incoraggiare, invece, parti naturali, per evitare che si ricorra, come spesso succedeva in passato, a un numero molto elevato di parti cesari. Quindi anche questo è un'attenzione importante verso un percorso che possa essere il più naturale possibile nella nascita di un bambino. Presente anche un opuscolo informativo a contenuto sociale e scientifico sulle tematiche materno-infantili, con indicazioni dei presidi ospedalieri e dei punti nascita presenti in tutto il territorio campano. In ciascun kit sono contenuti dei prodotti e benefit che alcuni brand hanno voluto destinare al progetto per accompagnare le famiglie durante il primo anno di vita del loro bambino. Un'attenzione per le neomamme, che spesso faticano per reinserirsi nel mondo del lavoro. C'è da organizzare, voglio dire, tutta una rete di servizi che chiaramente manca, manca in Regione Campania, manca nelle aree interne. Credo che cominciare anche a fare ragionamenti diversi ed importanti con le associazioni di settore, con il mondo, voglio dire, del volontariato. È importante cominciare a farlo, è importante soprattutto riconsentire alle mamme di poter reinserirsi all'interno del mondo del lavoro. Chiara sta facendo tantissimo l'assessore Marciani dal punto di vista della formazione professionale e della formazione soprattutto di genere. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 29 gennaio è stata scelta proprio la città di Benevento con gli ospedali Sampio e Fatebene Fratelli quale seconda tappa tra i 54 punti nascita regionali per la consegna di questi kit. Tutto questo mentre nell'azienda sanitaria Sampio non è stato ancora sciolto il nodo obiettori. Noi abbiamo avuto un problema riguardante appunto il grosso numero di obiettori però l'abbiamo risolto perché abbiamo prima attivato una convenzione con l'azienda sanitaria locale e ora ci stiamo approvincuando ad assumere il medico che inizialmente appunto veniva qua in convenzione. quindi per ora è in corso un concorso e pensiamo appunto di aver risolto per ora il problema e con il concorso nuovo in atto speriamo di acquisire le professionalità adeguate che non siano contemporaneamente obiettori di coscienza. La conferenza stampa di presentazione è stata ospitata presso la sala conferenze dell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento. Al centro per l'impiego del capologo Sanita Farsi in presa, un'altra iniziativa targata Regione Campania rivolta in questo caso a giovani e meno giovani che abbiano la voglia e la capacità di mettersi o rimettersi in gioco con Resto al Sud Ricomincio da me. Arriva a Benevento Farsi in presa Ricomincio da me, intraprendo e lavoro Tappa al centro per l'impiego di Via 24 Luglio Questa è una misura che ha visto veramente un grande successo Questa è la terza tappa Oggi qui riuniremo i giovani e meno giovani imprenditori che hanno aderito alla misura sia sulla provincia di Benevento che sulla provincia di Avellino Avremo qui in sala, perché mi hanno già salutato anche degli aderenti ad un'altra misura molto interessante che è il Worker Buyout una misura che dà una seconda possibilità a chi si è visto chiudere l'azienda e adesso invece si è riunito in cooperativa e sta ripartendo con un pezzo della vecchia azienda quindi c'è continuità quindi c'è ancora l'idea strategica che Regione Campania si può rimanere approfittando delle misure stando vicino alla propria famiglia e ricominciare così come dice la nostra misura Ricomincio da me, intraprendo e lavoro in Regione Campania Un incontro per presentare risultati della politica attiva al lavoro diretta alla creazione di impresa da parte di ex percettori di ammortizzatori sociali Per quanto riguarda l'autoimprenditorialità nella quale io credo fortemente sul quale c'era un bonus anche perché non credo che ci siano studi attuali che comportino all'interno dei programmi formativi universitari o studenteschi in generale la parte relativa alla cultura di impresa che invece è un fenomeno che tra i giovani anche tra coloro che sono più giovani va diffuso va diffuso perché ciascuno di noi può avere un sogno che poi si può tramutare in un'idea seria imprenditoriale possiamo dire che sulle tre misure da un anno e mezzo a questa parte quindi parlo di self employment di garanzia a giovani fino a 29 anni sul resto al sud fino a 46 anni non compiuti e con questa misura noi siamo ad oggi a contare 1624 aziende nate quindi vuol dire che abbracciando le tre fasce di età fondamentalmente ci si rimette ancora in gioco a qualsiasi età memory di un bagaglio culturale professionale che ancora si ha voglia di mettere nella disponibilità propria di una crescita personale e professionale opportunità professionali per guardare al futuro con concretezza e nuovo slancio con l'assessore Palmieri presenti i vertici di sviluppo Campania e i beneficiari della misura L'ente di Pietraroia è pronto per l'avvio delle attività di ricerche a trazione turistica soprattutto grazie al fossile di dinosauro Ciro ciò in attesa di due incontri programmati per lunedì 11 febbraio il primo a Benevento ce ne siamo già occupati nella scorsa edizione il secondo proprio a Pietraroia un'opportunità per discutere di ricerca tutela e valorizzazione del territorio sentiamo lunedì sempre 11 febbraio questa volta alle 11.30 un importante incontro a Pietraroia presso l'ente geopaleontologico di Pietraroia dove parleremo di ente geopaleontologico di Pietraroia e parco nazionale del Mattese ricerca, valorizzazione, promozione occasione di sviluppo per il territorio è un incontro voluto dall'ente geopaleontologico di Pietraroia dove si discuterà dell'istituzione e delle attività di due importanti enti entrambi vigilati dal Ministero dell'Ambiente mi riferisco all'ente geopaleontologico di Pietraroia e al Parco Nazionale del Mattese per questa ragione abbiamo voluto e ad avuto la presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a discutere di questa tematica lì a Pietraroia dopo il saluto del Sindaco di Pietraroia vi saranno il dottor Girfatti che è il presidente del Parco regionale del Mattese la dottoressa Giarratano che è il direttore generale del Ministero dell'Ambiente per la direzione protezione natura e mare vi sarà il presidente della provincia di Benevento il dottor Di Maria l'assessore all'ambiente della regione Molise Cavalieri e il vice governatore della regione Campania assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacolo è un incontro importante perché in un momento in cui vi è una generale chiusura degli enti e delle istituzioni sia a livello nazionale che locale qui in questo territorio abbiamo la nascita in questo momento di due importanti enti il Parco Nazionale del Mattese costituirà una grande opportunità è un parco che coinvolge quattro province la provincia di Benevento quella di Sernia, di Campobasso e di Caserta e due regioni è un territorio già di pregio sul piano naturalistico che va tutelato e conservato nello stesso spazio territoriale nasce l'ente geopero-ontologico di Pietraroria bene, l'incontro di lunedì servirà proprio per mettere a confronto le valutazioni dei vari stakeholder che partecipano alla fase di costituzione del Parco Nazionale del Mattese e rendere nota anche l'attività che sta svolgendo l'ente geopero-ontologico di Pietraroria per quel che riguarda il Parco del Mattese in questo momento sono in corso due attività importanti quella di perimetrazione dell'area e di zonizzazione dell'area in questa fase appunto tutti gli enti del territorio partecipano esprimendo le loro considerazioni e valutazioni che sono raccolte dal Ministero dell'Ambiente in particolare dall'ISPRA che è l'istituto di ricerca del Ministero dell'Ambiente che deve poi produrre già prodotto un primo documento che determinerà la individuazione puntuale sul territorio di quello che è il perimetro che riguarderà il Parco Nazionale del Mattese quindi questo secondo appuntamento che avremo nella stessa giornata di lunedì servirà proprio per mettere a confronto i vari rappresentanti istituzionali per arrivare a un buon lavoro per il varo anche di questo ente cioè il Parco Nazionale del Mattese oltre che l'ente geopariontologico di Pietraroia Siamo allo Sport Calcio Serie A Marek Amsic non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli il centrocampista slovacco aveva già ottenuto dei giorni di riposo in vista del suo possibile trasferimento in Cina che al momento si è bloccato per lo stop della trattativa Amsic resterà a questo punto a riposo anche nei prossimi giorni non sarà Castelvolturno per l'allenamento precedente alla trasferta di Firenze a cui lo slovacco non si aggregherà intanto verranno chiariti i rapporti tra il Napoli e la Cina si capirà quindi se la trattativa per il trasferimento di Amsic riparte oppure si ferma sarà Calvarese di Teramo a dirigere sabato alle 18 Fiorentina-Napoli incontro della giornata numero 23 quarta di ritorno del campionato di Serie A sempre sabato per Parma-Inter in programma alle 20.30 è stato disegnato il Rati di Pistoia giovedì in campo la Roma a Chievo con direzione affidata da Bisso di Palermo domenica tra gli altri incontri Sassuolo-Juve sarà diretta da Mazzoleni di Bergamo e Milan Cagliari dalla Penna di Roma Serie B pronti al derby sarà un incontro molto fisico dovremmo essere intensi nelle giocate e mettere qualità così Mister Bucchi in sala stampa del Ciro Vigorito e il tecnico giallorosso ha presentato il derby con la Salernitana sentiamolo Aspetto una partita bella perché oltre ad essere un derby già di per sé il derby è sempre una partita particolare si affrontano due squadre forti credo che la Salernitana sia per organico una di quelle squadre che può giocarsi qualcosa di importante fino alla fine lo era l'andata lo è adesso che ha completato ulteriormente il proprio organico con degli innesti mirati e di qualità quindi credo che sarà una partita bella sarà una partita dall'altissimo tasso agonistico perché la Salernitana è una squadra molto fisica molto agonistica gioca in casa e sicuramente ci terranno a partire forti a dare un'impronta subito di grande aggressività alla partita noi dobbiamo essere bravi a pareggiare tutto questo quindi dobbiamo essere altrettanto fisici altrettanto intensi nelle nostre giocate nell'aggressione nell'aggressività e poi usare tanta qualità credo che la qualità in questa partita possa veramente determinare determinare molto quindi una partita dura difficile per entrambe le squadre ma credo allo stesso tempo bellissima anche data dalla cornice di pubblico da entrambe le parti mancano ancora altre partite nulla è perduto ed è ancora tutto nelle nostre mani purché ci crediamo tutti insieme trasmettiamo fiducia ai nostri calciatori e il messaggio rivolto alla tifoseria della Salernitana dal copatron Marco Mezzaroma che in vista proprio del derby di giovedì sera contro il Benevento ha provato a ricompattare l'ambiente rilanciando le ambizioni del club Serie D l'allenatore dell'Avellino Buccaro presenta la sfida contro la capolista all'anno 6 servirà la partita perfetta sentiamolo ci arriviamo bene sicuramente diciamo è più tra virgolette importante per noi perché possiamo dare una piccola speranza possiamo riaccendere quella speranza che in questo momento è è molto distante contro una squadra che comunque ha dei numeri diciamo stratosferi ci devo dire hanno fatto benissimo fino a oggi quindi stanno meritando il primo posto toccherà a noi cercare di di riaprire un po' tutto il discorso non solo per noi ma anche per le altre squadre che comunque sono anche davanti a noi abbiamo la possibilità la squadra sta bene siamo pronti come dico sempre poi il campo e il giudice finale darà la sentenza però sono convinto che faremo una buona partita era questo l'ultimo servizio vi lascio in compagnia delle presioni del tempo e con il resto della nostra programmazione grazie dell'attenzione arrivederci grazie a tutti www.ilmeteo.it Ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it Al nord il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori, ma attenzione alle riduzioni della visibilità a causa di foschie o nebbie su diverse zone della pianura padana. Al centro, generali condizioni di bel tempo, con ampio soleggiamento, tuttavia una maggiore presenza di nubi è attesa sulle regioni tirreniche, senza precipitazioni associate. Spostiamoci infine al sud, dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con nuvolosità peraltro più presente sulla campagna e lungo le coste tirreniche della Calabria. Non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota. I venti soffieranno di ponente sul mar Tirreno, prevalentemente dai quadranti settentrionali sui restanti bacini. Terminiamo con uno sguardo alle temperature che sono previste in leggero aumento. I valori notturni saranno infatti compresi tra meno 2 e 10 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece fino a 12 gradi al nord, fino a 13 al centro e punte di 16 gradi sulle regioni meridionali. Grazie. 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 Grazie.